L'Aggiunta Comunale di Cecilia Francese ha approvato i lavori di pubblica utilità per 50 battipaiesi disoccupati. La Convenzione prevede un piano semestrale per i 50 cittadini che riceveranno i ammortizzatori sociali per attività da svolgere in svariati settori, dal monitoraggio delle strade al giardinaggio alla cura del verde. Il costo del progetto è di 187 mila euro. Ogni 30 giorni ciascun lavoratore percepirà 580 euro. Grazie.